E finalmente vi parlo di un libro di narrativa. Credo mi sia arrivato il suggerimento della lettura di questo libro da un qualche follower, che purtroppo non ricordo, si chiama La Pozza del Felice di Fabio Andina. La Pozza del Felice è ambientato nella Svizzera italiana, territorio da me totalmente inesplorato, e infatti scopro che esistono dei termini stranissimi in quell'area, che man mano che ci si addentra nella lettura del libro si capiscono che cosa vogliono dire, ma non è una questione linguistica il motivo per cui vi suggerisco la lettura di questo libro, bensì la possibilità di entrare a contatto con un mondo che per i cittadini è totalmente ignoto, totalmente inesplorato, e che si fa addirittura fatica a immaginare. Per chi è sempre vissuto in città e ha poco frequentato la natura, entrare a confronto con il mondo di una valle alpina abbastanza sperduta, seppur raggiunta dal turismo, per me è prezioso. Questo libro infatti parla della quotidianità di una serie di persone che hanno sempre vissuto in montagna e che vivono la montagna ciascuna a modo suo. Chi veramente in maniera super aggressiva, da essere umano conquistatore, quindi con un rapporto anche con gli animali veramente feroce, ma chi come il Felice, che è il coprotagonista del libro, vive in perfetta armonia con la natura. Il libro racconta proprio la quotidianità, nel senso che descrive in maniera super dettagliata tutto quello che succede in alcuni giorni della vita di questa valle. Nonostante il libro sia estremamente dettagliato, quindi faccia delle descrizioni estremamente accurato di tutti i personaggi, di tutto quello che succede, non è mai noioso. È scritto veramente benissimo. E pagina dopo pagina si entra in questa comunità, si conoscono i personaggi, si simpatizza o si comincia ad odiare alcuni di questi personaggi, con dei racconti anche spietati, con delle descrizioni di personaggi molto ironiche, ma anche abbastanza cattive. La figura che mi piace di più però di questo libro, e che è quella che vorrei che tutti noi prendessimo un po' ad esempio, è la figura del Felice. Ogni mattina, lui ha 90 anni, ogni mattina si alza, prestissimo, prima dell'alba, sale su per la montagna e va a farsi il bagno in una pozza. Il libro è ambientato a fine autunno, inizio inverno, e lui continua imperterrito a farsi il bagno, insieme al protagonista, in questa pozza, gelida ovviamente. Il rapporto del Felice con la natura è veramente pazzesco, conosce i funghi, conosce le piante, si beve tisane, sa come curarsi con le piante, pure addirittura la ferita del coprotagonista, l'io narrante, con un impasto di ragnatele, cosa mai sentita. Non credo che sia molto igienico, però funziona sul protagonista almeno. Ed è il vero minimalista, lui possiede pochissimo, in casa sua non c'è quasi nulla, se non è inverno, gira scalzo, ha sempre gli stessi vestiti che lava. Igienicamente è impeccabile, si lava, lava i vestiti, però ne ha pochissimi. Mangia il minimo indispensabile, è vegetariano, non beve alcol, è veramente una persona che è rara anche in una montagna. Tutti intorno al Felice effettivamente bevono, bevono tanto e mangiano tantissima carne, quindi è proprio un personaggio particolare. Un'altra cosa che mi ha colpito del Felice, un po' mi ha ricordato come mi comporto io, lui va a mangiare a pranzo quasi sempre nei ristoranti della valle e si porta a casa i rifiuti organici, perché lui va a alimentare il suo compost, che poi va a alimentare il suo orto. È molto buffo questa cosa del Felice. Vi consiglio quindi la lettura di questo libro per entrare in un mondo che potrebbe essere molto lontano, ma è veramente realistico, anzi quasi iper realistico. Io ci ho avuto a che fare nei miei anni da bambina e tuttora con la vita di montagna, e vado sicuro che è così, e può essere anche molto truce. E di lasciarsi ispirare, grazie a questo libro, dalla figura del Felice, perché credo che sia possibile vivere senza tutto questo eccesso di tecnologia, eccesso di beni di consumo, eccesso di cibo, eccesso di qualunque cosa. Credo questo libro, e in particolare modo la figura del Felice, sia una figura molto positiva da cui lasciarsi ispirare.